Questo video è stato girato in Borgostazione e si vede a giudicare da quello che si muove sullo sfondo del protagonista, Joseph, una persona che si vede spesso da queste parti in Borgostazione. Lo potete trovare col suo camioncino della spazzatura all'inizio e alla fine del turno, quando viene a bersi il suo caffè. Perché Joseph hai paura di essere rapinato proprio a Pugola? Perché in questa zona qua è piena di delinquente. Però ci vieni sempre, sei sempre qua, ti vedo sempre qua. È qua, è famoso, mi piace bere il caffè qua. Ecco, noi siamo in Gale Leopardi, il mio amico si chiama Joseph e viene dal? Da Nigeria. Da quanto è che sei avuto? Circa 22 anni. Joseph è famoso in tutto il quartiere perché lui fa un mestiere molto particolare, ossia lui è quello che tiene pulita la città, vero? Sì. Tu vai in giro col camioncino, fai il tuo turno, lavori di giorno, a volte anche di notte? Sì. Ci sono scocchi i marciapiedi le strade? No, per adesso tutto è pulito, facciamo due servizi come devi. Perciò Udine mi piace, è un paese bellissimo. Perché è bellissimo? Perché alcuni cittadini qua mi trovano con loro bene. Soprattutto Udine è un paese più onesto in Italia. Il frullano è più onesto. Conosci qualche parola di frullano? Sì. Bandi c'è molti. Ma perché vieni sempre in Borgostazione? Non è un quartiere pericoloso. Quelli delinquenti che c'è in giro qua è diventato una cosa terribile. È buono il caffè qui da Pang? Sì, il caffè è più migliore per quello. Fai tutta quella strada, vieni qua a bere il caffè. E come tu ne bevi più di uno al giorno, è sempre qui? Sì. Sei drogato di caffè. No, mi fa sveglio perché io sono uno che dorme poco. Grazie Giorgio. Prego. Mandi. Mandi. Arrivederci. Grazie a tutti.